Gira invece in orizzontale per Freud che trova in qualche modo il Papu di testa, l'aggancia, la porta avanti, arriva in zona tiro, calcia in porta! Ma come sta il Papu Gomez? Ma come calcia? 4-0! Di Bala, la lascia sfilare, col destro! Ancora lui! Sami Khedira e la Juve la sblocca all'Olimpico! 21 minuti nella ripresa, Juve 1-0 Lazio! He's in good shape! That's typical, absolutely brilliant! Turning defense into attack Real Madrid! Altro pallone in mezzo di Ronaldo! Che cosa ha fatto? Che gol di Ronaldo! Strepitose ci sono! Gli applausi dello stadio, sentite! Quindi largo a destra De Frey, largo a sinistra del Sharawi, il traversone di Florenzi per el Sharawi! El Sharawi sblocca la partita di Marassi, porta avanti la Roma dopo 14 minuti del secondo tempo Genoa 0, Roma 1, Stefan El Sharawi! La porta avanti, arriva in zona tiro, calcia in porta! Ma come sta il Papu Gomez? Ma come calcia? 4-0! L'Atalanta praticamente passa il turno perché c'è un... La porta avanti, arriva in zona tiro, calcia in porta, 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 calcia in porta. P-0!